no e no e che ne so brigadiere è l'assassino che si è costituito si rizzotto che è resuscitato no non la sto prendendo in giro e che sa dopo tre giorni che pronto pronto brigadiere niente si sta mica di polizia non fa mai niente però con la mia macchina ma che dormire non so che fare non so che scrivere quella non mi vuol più vedere mio padre è incazzato come che sono due giorni che non torna a casa e poi questo che mi vorrebbe vedere poi manco arriva anche a me succede sempre se cosa che ti danno buca no che non so cosa fare a quel punto che fai non l'ho tutto no io no no che fai allora boh leggo un tex e che scusa mi stai dicendo che non sai che cos'è tex no che disegni i titoli ma come sono disegnati comunque secondo me anche tex ieri si sarebbe cagato sotto qua come il west ieri sembrava un saloon voleva buttare le pistole secondo me molto peggio ma perlomeno ci stanno indiani contro cowboy qua tra noi e loro non c'è nessuna differenza mi sa che i problemi anche con la tua ragazza che vuol dire che di solito tutti ci provano con me tu non lo stai facendo gg gg tutto ok no servono a mano va beh apri no siamo solo noi qua ma vuoi che chiamiamo il fotografo dell'altra volta o se è un problema noi siamo qua grazie a tutti